Una maggioranza nella quale, di fronte a vicende così delicate e impattanti per il territorio, con un processo che interessa la comunità e il cui svolgimento ha rilevanza esterna, ciascuno procede per suo conto, senza una linea condivisa di cui un'amministrazione che si rispetti avrebbe bisogno. Non farà quindi ancora molta strada, lo afferma Chiarelettere Gruppo Consigliare di Fratelli d'Italia, attraverso i consiglieri comunali Vittorio Masci e Salvatore Zavarella, a qualche ora di distanza dall'annunciata costituzione di parte civile di quattro consiglieri comunali, una maggioranza spaccata che, secondo i locali meluniani, avrà vita breve. Non è bastata l'iniziativa personalissima del sindaco, sostenuto, immaginiamo, dall'intera maggioranza di centro-sinistra, di improvvisa defenestrazione del Consiglio di Amministrazione del Coggesa con la sostituzione con un amministratore unico, che un giorno dice di rimanere, il giorno dopo di farsi da parte, anche alla luce dei legittimi dubbi sulla regolarità della procedura adottata da un ridotto numero di sindaci del territorio che mette a rischio la vita della società partecipata, esordisce Fratelli d'Italia. Avevamo, peraltro, nell'ultimo Consiglio Comunale chiesto al sindaco di aggiornare l'assemblea civica sulla situazione del Coggesa prima di intraprendere qualsiasi iniziativa, ma inutilmente, avendo egli adottato la drastica iniziativa con il sostegno, immaginiamo della sua maggioranza in accordo con uno sparuto numero di amministratori, ricordano Masci e Zavarella, la stessa maggioranza di centro-sinistra non è stata poi in grado di determinarsi in modo unitario su quanto in precedenza accaduto nella partecipata, in particolare in ordine alle vicende penali che hanno interessato dirigenti ed ex amministratori. La Giunta non ha deliberato di far costituire il Comune parte civile nel procedimento penale in corso, lasciando spazio solo al Comitato dei cittadini della frazione che da tempo lamentano emissioni nocive, cattiva manutenzione degli impianti, superamento della capienza dei depositi, violazioni ambientali e urbanistiche, reati contestati al precedente amministratore unico del Coggesa e altre tecnici della società. Ma ieri mattina, evidenziando una palese spaccatura all'interno della maggioranza di centro-sinistra, hanno proveruto a preannunciare la Costituzione di parte civile e quattro consiglieri comunali presenti nell'aula del Tribunale di Sulmona, dei quali tre del gruppo consigliare dello stesso sindaco Di Piero e un altro della lista civica SBIC. L'atto di Costituzione, già formalizzato con la presenza di un loro difensore, sarà esaminato dal giudice del dibattimento alla prossima udienza, una maggioranza nella quale, di fronte a Vicente così delicate e impattanti per il territorio, non trova una linea condivisa, non farà molta strada, tuonano da Fratelli d'Italia.